Noi ridiamo amaramente, è questa l'operazione. Noi non la stiamo buttando lì come una soluzione cabarettistica, che arriviamo lì, cominciamo a fare casino, facciamo cosa. Noi stiamo... Qual è stata la linea? La linea è stata quella di schiacciare l'occhio a Beckett e a Brecht in una situazione panormita, con un linguaggio panormita, domando questo testo che era veramente sconvolgente, è molto attuale, perché non si mangia, in Italia non si mangia. È la prima volta che affronto un personaggio femminile e poi sono 45 anni che manco dal biondo. Io a questo teatro devo... i miei primi passi nel professionismo con le acque di Pietro Garriglio, cioè di Ioppolo per la regia di Pietro Garriglio e subito dopo ho fatto il cortile degli Agonesi con Franchi e Ingrassia per Rai 2. Quindi ho dei ricordi fantastici, bellissimi. Vai a raccontare due cose, che sono l'uno, diciamo, muro con muro con l'altra, che sono la fame e la peste di Palermo. Che a Palermo, diciamo, ci sono tante cose di cui, diciamo, noi ci possiamo vantare, però la cosa più famosa di questa città è la fame. Assolutamente moderno tutto quanto, no? La fame è la cosa più antica, ma allo stesso tempo la cosa più attuale. Il testo di mio padre, questo, diciamo, pellegrinaggio, è, diciamo, comunque è stato ascoltato bene da Roberto Alaimo perché appunto lui voleva rappresentare mio padre. Il fatto che io ho fatto le musiche, il fatto che ho voluto fortemente gli attori, cioè io ho voluto Mario Pupella, che appunto oggi mi, oggi vengo a sapere che da 45 anni che non mette piede al Teatro Biondo. Poi c'è Gino Carista, Stefania Blandeburgo e Salvo, Salvo Pipero, con cui io lavoro sempre, portiamo avanti appunto la mia memoria e con cui ho un rapporto bellissimo. Il progetto in sé per sé è stato abbastanza complesso perché sono due spettacoli che hanno dovuto coesistere. Esiste un unico filone conduttore che è appunto la, sostanzialmente, la dimensione a tempore, che ha una connotazione stilistica in un lato e totalmente ribaltata nell'altro.